Io viaggiavo molto di più prima di fermarmi a Napoli, poi qui ho trovato Brunella, questa città molto vivace, molto sorprendente, una spontaneità, una cosa di vivere anche il momento, al giorno al giorno, che questa città corrisponde alla mia anima e viceversa. Mi piace anche rimanere un po' a casa e concentrarsi su cose un po' più intime, anche un piatto di pasta con pomodori di stagione locale, fatti bene, ci fa felici. Ho iniziato a dipingere a Parigi e quando ho iniziato a imparare sentivo sempre questi pittori che parlavano di importante la luce, importante la luce e che mi sembrava una cosa un po' esagerata. Poi quando arrivi in Italia in generale, poi a Napoli, soprattutto capisci come la luce ti può fare rendere qualunque soggetto un soggetto in sé, dunque al fine è la luce che crea le cose. Grazie. Grazie.